Sono oltre 200 le osservazioni presentate da cittadini, associazioni e denti riguardo un'entrata in virola a Venezia in alcuni giorni dell'anno del contributo d'accesso per regolare i flussi. Si profila dunque un nuovo rinvio, forse al prossimo anno, molto difficile infatti che la novità possa essere varata già entro queste estate. L'assessore al bilancio della società partecipata Michele Zuin fa il punto e non arretra. Abbiamo pubblicato sul sito del Comune di Venezia tutti i contributi che sono arrivati sulla nostra piattaforma riguardanti il contributo d'accesso. Sono contributi dei cittadini, di associazioni, le abbiamo volute rendere pubbliche in modo tale che tutti le potessimo vedere, li abbiamo anche consegnati ai consiglieri comunali. Adesso una nostra commissione tecnica li sta vagliando, cercando di fare una selezione e poi verranno portate l'attenzione appunto della giunta e quelle meritevoli verranno portate anche in commissione per poi eventualmente far parte del regolamento. Questi i prossimi passaggi? Una volta che il regolamento sarà passato e approvato dal Consiglio Comunale avremo circa sei mesi per iniziare appunto con il contributo d'accesso. Per quanto riguarda invece la tassa di imbarco, votata dal Consiglio Comunale per due euro e mezzo per ogni cittadino che si imbarca negli aerei al Marco Polo, invece stiamo aspettando un appuntamento con Save per poter determinare insieme come riscuotere appunto questa tassa di imbarco. anche questa a favore di Venezia e dei veneziani per affrontare il bilancio e per non fare tagli soprattutto ai servizi.